Ha preso il via la terza edizione del Forum Internazionale del Gran Sasso di scena all'Università di Teramo e che si concluderà alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Un grande evento accademico quest'anno sul tema Investire per Costruire, promosso dalla Diocesi di Teramo Atri, in collaborazione con il Ministero dell'Università e Ricerca e con il Ministero degli Affari Esteri. Ad aprire i lavori il Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, cerimonia inaugurale moderata da Cesare Mirabelli, Presidente Merito della Corte Costituzionale, alla presenza, tra gli altri, del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e Possisma, Giovanni Legnini. Il terzo forum, riaffermato nel suo discorso di apertura a Monsignor Leuzzi, vuole coniugare, a partire dalla cultura della prevenzione, il verbo investire con quello di costruire, evitando forme astratte di programmazione. Per il magnifico Rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, il Forum del Gran Sasso, a posto Teramo e la sua Università, al Centro di Riflessioni e Visioni Mondiali, coinvolgendo in particolar modo le nuove generazioni. Il programma prevede 16 sessioni parallele di lavoro, animate da 270 relatori provenienti da Atenei italiani e stranieri. Gli ambiti di studio coinvolti spaziano dall'arte all'economia, dal diritto alla medicina, dalla tutela dell'ambiente e al lavoro, senza tralasciare settori come bioetica, agroalimentare, turismo e sport. Un'opportunità preziosa alla presenza di Conte a Teramo, che il sindaco Gian Guido D'Alberto non si lascerà sfuggire. È previsto infatti, al termine del forum, un incontro tra il primo cittadino e il presidente del Consiglio, sui temi più cari al nostro territorio, una ricostruzione post-sisma che non decolla e l'emergenza Covid, soprattutto nella riorganizzazione scolastica.